Con il Movimento 5 Stelle c'è una comune volontà di lavorare fino all'ultimo momento per una convergenza innanzitutto sui programmi per migliorare la vita dei cittadini dell'Umbria. C'è un clima positivo, certo le vicende della regione non hanno aiutato e non l'aiutano per niente, però c'è un partito democratico al di là di 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 che al più presto si possano trovare convergenze anche sulle figure unificanti ad autorevoli per scrivere insieme ad una larga coalizione nuove pagine della vita dell'Umbria.